In finale, signor femmine, sono 25 i giri da percorrere, la prima campana a meno 20, la prima eliminazione a meno 19, si elimina ogni due giri, i giri dispari fino alla campana di meno 4, poi si eliminerà ogni giro. Grazie a tutti. Mino 22 al passaggio. Campana a meno 20. Al passaggio, la prima eliminazione. 2, 6, 1. Campana di meno 18. Al dieve, al nasperlo. Al dieve, al nasperlo. Eliminazione. Eliminazione. 1, 3, 8. 136, 136. Campana di meno 16. Occhio, che gara dentro è troppo. Vai, vai, vai. Eliminazione. Il passaggio. Il passaggio. Numero 66. Un argoso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eliminazione. Eliminazione. Vieni il passo, Maria. Vieni. Vieni. 1, 4, 8. Bravo. Bravo. Eh, Matteo. Similissimo. Bravo. Bravo. Eliminazione. Guardate. Campana di meno 12. Eliminazione 7, 4, 5 5, 6 7, 6, 9 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 419 9, 9 Eliminazione 140 Il traguardo volante 2 Maria 2 Maria 2 Maria Campana di meno 6 nel frattempo 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 non c'è l'eliminazione al passaggio salta questa eliminazione qui non si elimina prossimo passaggio eliminazione eliminazione di meno due numero 193 prossimo passaggio eliminazione e campana di meno uno eliminazione e campana nell'ultimo giro 8-0-3 siamo nell'ultimo giro finale grazie grazie grazie